SABADO, 13 OTTOBRE, alle ore 1500, su RAI 3, inizia una nuova stagione di TV Talk. Da molti indicato quale uno dei programmi più garbati della televisione italiana, il format condotto da Massimo Bernardini va in onda ogni sabato pomeriggio per analizzare i principali fatti avvenuti nella settimana televisiva. L'inizio della nuova stagione è stato lanciato e preceduto da alcuni appuntamenti social. La sera del 9 ottobre, infatti, Andrea Pizzoferrato ha interagito con gli utenti su Twitter attraverso un live tweeting sulla trasmissione Temptation Island VIP, video, alle ore 1300 di giovedì 11 ottobre. Invece, Cinzia Bancone e Silvia Motta condurranno la prima diretta stagionale su Facebook, nel corso della quale diranno anticipazioni, sorprese e novità previste per la prima puntata. La nuova stagione di TV Talk dal primo pomeriggio di sabato, 13 ottobre, su Rai 3 riprende la consueta programmazione di TV Talk, il rotocalco sulla televisione condotto da Massimo Bernardini. Nel corso di ogni puntata, gli ospiti in studio analizzano e discutono fatti, programmi ed eventi della settimana televisiva appena trascorsa, con una speciale attenzione per i fenomeni e i tormentoni del momento. Punto da quest'anno la trasmissione andrà in onda da uno studio completamente rinnovato. Oltre ai palinsesti della televisione italiana, il talk show offre anche spazio alla programmazione televisiva internazionale, al mondo digitale e alla comunicazione sui social network, video. A proposito di social, il programma è molto attivo su Facebook, Twitter, Instagram dove può essere seguito attraverso l'hashtag cancelletto tuftoc.squadra che vince non si cambia anche quest'anno il timone della trasmissione sarà affidato alla storica crew, composta da Massimo Bernardini, Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli. Punto sebbene il conduttore del programma sia riconosciuto essere Massimo Bernardini, infatti, il successo del formete è da attribuirsi anche alla coesione, alla preparazione e al lavoro di squadra. Compiuto dallo staff.In particolare, l'ottimo Pucciarelli lavora alla redazione di TV Talk da più di 10 anni, a Cinzia Bancone è affidato il monitoraggio della rete e degli umori social, mentre Silvia Motta analizza con sapienza i dati auditel dei programmi trasmessi in tv nel corso della settimana. Partendo da questi presupposti, è facile prevedere che anche quest'anno la trasmissione avrà un ottimo seguito.